Mentre il pubblico di Canale 5 sembra non aspettare altro che l'inizio di Temptation Island, ma dovranno avere ancora tanta pazienza, per quanto riguarda Rai Uno già si discute a proposito di ballando con le stelle 2024 di Millicarlucci e dei possibili nuovi concorrenti Sembra presto eppure spuntano già diversi nomi.Sono oltre 20 anni, esattamente da lontano 2005, che Millicarlucci ogni anno conduce il talent shock e ormai è storico per Rai Uno e i telespettatori Praticamente chiunque è passati di lì, tra una baciata e un tango, per tornare in voga o tentare la fortuna Ballando con le stelle 2024, Massimo Ranieri è un'attrice.Ballando con le stelle 2024, fuori i nomi dei concorrenti, un bel cast Sembra manchi chissà quanto, ma Millicarlucci e la grande squadra di Ballando con le stelle 2024 non si fermano un attimo e hanno cominciato già da tempo a costruire la prossima edizione che avrà inizio il prossimo ottobre Stando ad una indiscrezione spuntata in queste ultime ore su X e Libro Magazine, il prossimo cast del programma danzante starebbe già prendendo forma e con nomi di un certo spessore Naturalmente non si può che prendere con le pinze tali gossi però qualcosa di vero ci sarebbe sempre Melissa Satta potrebbe essere in trattativa, come Massimo Ranieri e Piero Chiambretti che farebbe gran piacere al pubblico più senior senza ombra di dubbio A seguire si parla anche del conduttore, e braccio destro di Fiorello, Fabrizio Bibbio e dell'ex calciatore Nicola Ventola Poi le conduttrici Francesca Fialdini e Uliana Morena, si è fatta vedere all'isola dei famosi 2024 La mitica Ornella Muti ed il fresco talento Big Mama. Non solo, sono stati nominati la metà di Luca Argentero, l'attrice Cristina Marino, ed il collega di Doc, Nelle tue mani, per Paolo Spollon, ed è tornato il nome dello chef Bruno Barbieri Un cast super!